Da sempre i fiori sono il simbolo dell'amore. Il 19 e il 20 di aprile in tutte le piazze italiane troverete l'ortensia, un fiore che aiuterà i bambini di tutta Italia attraverso il telefono azzurro. In questo caso da cuoco consiglio a tutti gli uomini e le donne di abbandonare le cuscine, di porre dentro gli scaffali le pentole, i taglieri, i coltelli, uscire, comprare un'ortensia e arredare la vostra casa con un fiore straordinario.